Mimo Lucano Il progetto di integrazione conosciuto come Modello Riace, architettato dall'ex sindaco della città calabrese Mimo Lucano, è stato scelto dal Web Marketing Festival come esempio di innovazione sociale. Il politico è attualmente coinvolto in una vicenda giudiziaria che lo costringe a difendersi dall'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina per il suo progetto di accoglienza. Dal palco di Rimini, Lucano si è tolto non pochi sassolini dalla scarpa anche in merito all'altra accusa, quella sull'assegnazione del servizio di raccolta rifiuti a due cooperative. La cosa incredibile è che la Cassazione, che probabilmente è l'organo più alto del diritto, dice il sindaco non ha agito solo magari facendo gli interessi del territorio, ma come prevede la legge, perché sotto i 150 mila euro si potevano fare questi affidamenti diretti. In una terra dove si riciclano gli rifiuti pericolosi che provengono e li gestisce sempre il malaffare, mi hanno arrestato a me. Perché? E lo voglio dire in questa assemblea. Sono lo scarto dell'umanità, ha detto Lucano riferito ai migranti, sono vittime di un mondo ingiusto che li obbliga a un'unica soluzione, spostarsi. Quando arrivano con i nostri tribunali, con mille modi, facciamo in modo che al trauma che comunque i paesi occidentali causano si aggiungono altri traumi perché non li sopportiamo.